Passiamo adesso al prossimo oratore, il dottor Poletti, che ci parlerà della pregolazione, scusate, del ruolo delle proteine spazzine nella rimozione delle forme proteiche e neurotossiche presenti nella SLA. Grazie per l'opportunità di presentare i miei dati. Vorrei anche dire qualcosa, che tutti i dati che presenterò sono stati ottenuti nel mio laboratorio, in quello di Angelo Poletti e quella di Serena a Modena. Voglio sfruttare questa presentazione per accorciare a 20 minuti la mia presentazione. Poi, conoscete quali sono le varie proteine mutate nella malattia, nella SLA. Vediamo che ci sono conformazioni aberranti, che chiamiamo misfolding. Questo, naturalmente, è l'argomento principale della mia relazione. Vi presenterò dei dati. Scusate, va un po' veloce, dovreste rallentarlo, se no è complicato tradurre in maniera adeguata. A causa di questa misfolding avremo degli eventi a valle, che portano a una mislocalizzazione, deposizione di proteine, danni mitocondrici, e poi trascrizione aberrante, problemi nel trasporto degli assoni, che risultano disregolati, eccetera. Quindi dobbiamo fare qualcosa per proteggere le cellule, con un controllo di qualità proteico, che chiamiamo PQC. Vedere cosa accade alle ciaperone molecolari, e cosa accade ai pathway della degradazione. Parlo dell'autofagia proteassomica. Bene, vediamo i ciapperoni. Sappiamo che ci sono molte famiglie, molti membri di queste proteine. Il docciolo di questo processo è mediato in questo modo da proteine importanti. Vediamo che queste proteine sono fattori di scambio nucleare. Una volta che ciò accade, che questo ciclo è partito, allora abbiamo le ciaperone che completano il lavoro. Io in breve vorrei sottolineare il fatto che durante condizioni di stress acuto, c'è degli ciaperone chiamati sottinsiemi, che vengono appregolati. E così queste riconoscono le misfoldate, per così dire proteine che hanno subito misfolding, l'aumento della tossicità dovuta a questo stress acuto. Torniamo a queste proteine HSC. Vediamo che cosa accade. Queste proteine che hanno appunto un sistema di ubiquitina con liganzi come il CIP, vengono ubiquinati per così dire nel sottostato e portano a protosomi che hanno un'alta specificità ma una bassa capacità di rimuovere queste proteine. Quindi c'è una congiunzione di sistema, c'è appunto una selezione, una regolazione molecolare che ha una bassa specificità e un'alta capacità. Vediamo quello che accade a livello degli isosomi, dell'autofagosomi, del citoplasma. vediamo la forma, un sistema autofagico che porta la proteina in questi autofagosomi con proteina degradata. Vediamo cosa accade alla SOD1 mutante. Questi sono alcuni dati ottenuti negli anni, ma vi darò un'idea solo di quello che accade. Vado molto rapidamente, l'interprete si scusa perché l'oratore va troppo rapidamente. Comunque vediamo qui cosa accade al quarto giorno, specialmente a alto livello molecolare, alto peso molecolare. Se blocchiamo il proteosoma abbiamo un grosso accumulo della proteina. Vediamo un alto peso molecolare, gli oligomeri, l'obiquotina e così via. Possiamo anche misurare tutto ciò in questo modo, l'accumulo, cioè in condizioni basali, ma se blocchiamo il proteosoma vediamo che ci sono differenze. Questo vale anche per gli aggregati. Qua vediamo le condizioni basali. Se blocchiamo il proteosoma abbiamo una maggiore ubiquitazione. Questa è una frazione di proteina che di solito viene eliminata dal proteosoma. Quindi vediamo che la maggior parte del SOD1 viene, diciamo così, liberato grazie al proteosoma e all'autofagia che ci permette un'attivazione nella cellula quando il mutante SOD1 viene espresso in questo modo. Vediamo l'autofagosoma con lo microscopio e vediamo anche gli altri marcatori che mostrano una grossa accumulazione, un grosso accumulo anzi, per meglio dire. Abbiamo la TDP43, vediamo che possiamo ipotizzare una forma sporadica che accade anche alla FALS, cioè la SLA familiare, nelle forme di SLA familiare. Tutto è molto complesso, però in parole povere il frammento di TDP43 è eliminato dal proteosoma. Vediamo, però il frammento di TDP43 è un'altra pensione a aggregarsi e quindi raccoglie anche altre molecole di TDP. Il problema è che si accumula, vediamo, in queste cellule e se guardiamo gli aggregati del TDP25, dei frammenti TDP25 nelle cellule, vediamo chiaramente che sono strettamente accettati con i corpi, che significa che c'è un blocco degli autofagi, altrimenti le cellule sarebbero liberate di questi fattori. Quindi questi dati, insieme a altri dati che non voglio mostrarvi oggi, ci hanno fatto capire che questo equilibrio forse può essere disturbato. Perché? Perché vi sono alcuni eventi che scappano alla degradazione proteosomica, che dovrebbe essere però protettiva, perché impedirebbe la degradazione e l'autofagia è importante. Noi sappiamo che il blocco dell'autofagia è a volte insufficiente per eliminare queste proteine. Come possono i neuroni o come possiamo noi migliorare la solubilità della proteina misfoldata mutante e o la sua degradazione se il flusso autofagico viene bloccato o è insufficiente? Torniamo a questo schema che vi ho mostrato prima. Noi possiamo cercare di aumentare l'attività del sistema di controllo e quindi vedere come aumentare l'attività del proteosoma e aumentare quindi l'autofagia. Vediamo qui il pathway che chiamiamo autofago l'isosomico pathway APLP con bassa specificità e alta capacità. Ma dobbiamo capire come poi funziona la modulazione dell'attività del chaperon e di quale chaperon. Se badiamo soprattutto a queste proteine proteine native che sono indotte durante lo stress l'ADP l'ATP e poi quello che chiamiamo la proteina intermedia che si unfolda vediamo la degradazione la refolding e la selezione attraverso il proteosoma o il sistema HSP per ottenere dei cloni da 1 a 10 che diamo di nuovo importanza a una di queste forme che sono espresse in maniera ubiquitaria anche nel cervello B1 per esempio è espressa solo nelle cellule gliali vediamo cosa accade in fase 1 e fase 2 agli introni vediamo adesso SPH B8 SPH B8 che è mutato e quando è mutato crea una motoneuropatia distale cioè una malattia motoria neurodegenerativa e poi abbiamo anche scoperto quando parliamo di HSP B8 e blocchiamo o inibiamo i proteosomi vediamo che abbiamo un aumento notevole nell'espressione dell'HSP B8 come risultato di questo blocco e possiamo misurare la reattivazione del promotore umano dell'HSP B8 vediamo qui c'è la proteina che viene attivata e poi un'altra ragione è che abbiamo scoperto che l'HSP B8 è localizzata soprattutto nei motoneuroni nel midollo spinale vediamo nei topi a diversità cosa succede abbiamo anche scoperto che il livello di espressione dell'HSP B8 declina diminuisce cioè con l'età quindi i motoneuroni possono essere protetti attraverso questa azione cosiddetta protettiva e abbiamo anche scoperto che l'espressione dell'HSP B8 aumenta nel midollo spinale dei modelli transgenici di topo con la SLA TGG G93 a SOD1 in particolare se guardiamo la differenza fra il tipo wild e il tipo SOD1 la maturità della risposta è limitata nei motoneuroni e abbiamo una soppressione la maggioranza di HSP B8 nel livello sintomatico si trova nei motoneuroni e c'è un'espressione notevolmente alterata vediamo il SOD1 in rosso in verde vediamo l'HSP B8 in forma solubile espressione dell'HSP B8 ma noi vogliamo credere che questi motoneuroni hanno un'altra espressione dell'HSP B8 che li altera però bisogna ancora provare tutto ciò e poi abbiamo un altro obiettivo per la tossicità l'espressione dell'HSP B8 aumenta molto nella fase ultima della malattia che indica che queste cellule che esprimono l'HSP B8 SOD1 sono attivate come componente importante del sistema di controllo di qualità per quanto riguarda le ciaperone e vediamo cosa accade quali sono gli effetti di HSP B8 vediamo SOD1 G9 3A e vediamo cosa accade grazie all'attività del proteosoma nei neuroni motori vediamo si ha una rimozione questa è la montare che misuriamo quando blocchiamo il proteosoma vediamo c'è un'elaborazione da parte del proteosoma di queste agenti vediamo c'è una rimozione della frazione quindi il proteosoma non è implicato nell'azione dell'HSP B8 c'è rimozione degli aggregati di queste specie solubili e così via e non c'è certamente compromissione del proteosoma e della sua attività se blocchiamo l'autofagia allora impediamo un aumento dell'attività dell'HSP B8 e quindi l'importanza dell'autofagia non deve essere trascurata noi riteniamo che questo è un processo di facilitazione un grosso vantaggio perché non induce in maniera eccessiva l'autofagia che è già attivata nelle cellule murine ma che viene bloccata e poi se rimuoviamo questo TDP43 vediamo che i dati sono più o meno simili aggregazione e così via l'effetto dell'HSP B8 senza aggregazione riduzione delle specie insolubili e blocchiamo anche altre attività se silenziamo vediamo in questo caso la clearance il TDP43 o 25 KD abbiamo un accumulo o il controllo scusate l'opposto vediamo che basta avere una frazione abbastanza ampia della proteina se riusciamo a gestirla abbiamo nuove espressioni riduciamo il livello se blocchiamo aumentiamo il livello lo stesso accade con DDP 25 KD abbiamo un accumulo di aggregati questa è una diapositiva molto complessa voglio essere breve e veloce vediamo qui l'NP40 insolubile una specie generale NP40 insolubile con 25 KD che possiamo misurare al centro vediamo la maggioranza di questa parte è insolubile è un NDP40 resistente e se aumentiamo l'espressione del HSPB8 rischiamo a rimuovere tutte queste specie non solo l'SD1 o DDP43 ma anche altri peptidi che vengono formati da queste traduzioni cioè sono dipeptidi tradotti attraverso C90 RF 72 RAN che hanno un'influenza in queste particolari mutazioni vediamo 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 il poligipi che è uno dei dipeptidi tradotti traslati scusate per meglio dire abbiamo questa espressione nei motoneuroni realmente non è una proteina misfoldata ma è una sorta dipeptide o anzi meglio di dipeptide con proprietà biochimiche peculiari se abbiamo un'overespressione di questo non solo riusciamo a rimuovere il dipeptide ma anche un insieme di specie insolubili e la prova è questa che abbiamo un silenziamento dell'Hspb8 abbiamo un accumulo di peptide lo stesso vale per tutti gli altri dipeptidi anche se ci sono differenze nel tipo di proprietà ad aggregarsi e a rispondere a questi blocchi di proteosomi quindi l'idea è che in realtà anzi il nostro modello vuole dare importanza a questo blocco delle proteine mutanti il proteosoma in realtà in un certo qual modo è danneggiato ma il problema che permette l'accumulo delle specie è quello del blocco dell'autofagia per indurre l'espressione aumentata della gente ma quindi Serena l'ha mostrato anche prima nella mosca come abbiamo sentito dire prima si utilizza un mutante nell'estdp43 mutante nella mosca con un dominio che è stato sviluppato dal nostro collega che mostra un'alterazione dell'altezza del livello nell'espressione cioè dell'autologo 5 dell'espdb8 che viene recuperato nel fenotipo e quindi riduce l'accumulo del tdp43 nell'agente questo è un ortologo molto importante questa proteina è molto importante quella dello shock termico è molto importante per mantenere la clearance del tdp del spb8 mi scuso per la velocità è comunque stata usata un'altra mosca che mostra questo frammento 35 kg d'alto non solo 43 kg d'alto indotto nella pupa vediamo cosa succede quando c'è ovv'espressione dell'autologo dell'hspb8 sopravvivono di più migliora cioè il fenotipo non è vero un miglioramento ma comunque si vede che la mosca è morta e lo si studia nell'occhio della mosca morta questo dimostra che l'hspb8 ha un effetto interessante sulle proteine coinvolte nella SLA qual è il meccanismo d'azione della p8 abbiamo voluto lavorare su questo in particolare lo ha fatto Valeria Crippa nel nostro laboratorio vedete qui studiato il SOD1 in varie condizioni vedete l'interazione con l'hspb8 sono state studiate in varie condizioni quando l'autofagia è attivata il complesso viene posto in queste condizioni e si blocca l'autofagia si finisce con questa interazione tra l'OSD1 e il bug 3 e come ha dimostrato Serena nello chaperone non solo bug 3 ma anche altri chaperoni importanti con il macchinario che vi ho mostrato all'inizio sono coinvolti quindi si forma un complesso con due molecole B8 vedete la cosa importante la componente importante è il bug 3 che è una sorta di impalcatura che tiene insieme B8 Hsp70 e CIP e CIP poi vedete interagisce con la proteina e questo richiede un movimento del complesso nell'organizzazione mucotubulare verso il centro di questa organizzazione microtubulare si tratta di un processo attivo mediato da bug 3 attraverso PXXP che interagisce con la proteina 14 3 3 e la adenina che fa muovere il complesso attraverso i microtubuli verso l'MTOC questo meccanismo quindi potrebbe essere alterato noi sappiamo che se blocchiamo l'adeneina possiamo anche bloccare l'autofagia c'è stato quindi questo esperimento vedete abbiamo utilizzato le HNA che è un inibitore dell'adeneina e con la nostra sorpresa più grande noi abbiamo trovato non un aumento dell'accumulo della SOD1 ma una diminuzione sia nelle cellule stabili che quelle trasfette quando abbiamo cercato di capire quale fosse la ragione abbiamo bloccato l'autofagia col 3MA non abbiamo visto alcun cambiamento e questo ce lo aspettavamo perché l'autofagia è già inibita quando si blocca l'adeneina con l'ENA ma non quando si blocca il proteasoma se si blocca il proteasoma si sovverte completamente questa azione protettiva non posso dire davvero protettiva perché non si userebbe mai l'ENA per proteggere il neurone ma è troppo pericoloso la proteina comunque è coinvolta in questa storia lo stesso vale per la TDP43 vedete 3MA non ha alcun effetto blocco del proteasoma invece sovverte l'effetto lo stesso vale per questi dipeptidi non voglio entrare nel dettaglio dice il relatore vi voglio solo dimostrare che non è solo questo l'idea è che ora se questo chaperon HSC70 deve fare il lavoro e deve selezionare due password e deve interagire quindi con delle componenti molecolari specifiche abbiamo dimostrato che per l'autofagia deve formare questo complesso BAC3 HSPB8 insieme a 70 chip ma sappiamo anche che se l'HSC70 e chip interagiscono con un altro componente avviene la degradazione del proteasoma per dimostrarlo e questo è vero quindi il modello questo modello potrebbe spiegare la nostra osservazione vedete l'espressione di queste tre componenti il trasporto mediato dall'adineina è inibito e vedete che cosa succede c'è una pregolazione dell'espressione di BAC1 soltanto non ho dati sulle proteine misfoldate correlate alla SLA ma abbiamo invece questo dato vedete che è illustrato nei grafici anche BAC1 appunto esercita questo effetto simile a quello degli altri due componenti quindi abbiamo questo equilibrio dobbiamo scegliere tra autofagia e proteasoma e abbiamo questa componente vedete purtroppo il relatore continua a indicare cose nella diapositiva molto velocemente quindi ve le lascio leggere questo dimostra che se c'è una overexpression di B8 si spinge il sistema verso l'autofagia e vengono espulsi gli aggregati attraverso l'autofagia allora la domanda è perché non proviamo a trovare delle piccole molecole che possano potenziare l'espressione di B8 per spingere il sistema verso una maggiore capacità del pathway fagico abbiamo cominciato uno screening Crippa collabora con Provenzani e D'Agostino dell'Università di Trento una collaborazione molto fruttuosa uno screening di 3000 composti sia naturali che approvati appunto dall'FDA per la loro capacità di attivare il promotore dell'HSPP8 e vedete abbiamo selezionato alcune di queste sostanze alcune erano steroidi altri estrogeni abbiamo dimostrato che gli estrogeni sono in grado di inturre l'espressione dell'HSPP8 abbiamo utilizzato anche cellule di neuroblastoma umano sfortunatamente non hanno il recettore degli estrogeni per confermare i dati del nostro screening abbiamo finito col trovare due composti la colchicina e la doxrubicina che sono a quanto pare in grado di indurre l'espressione di HSPPH e Valeria ha dimostrato che inducono l'espressione di HSBP8 vedete in modo dose dipendente inducono anche altri geni come TCFEB LC3 e P62 che sono coinvolti nella risposta autofagica delle cellule questi sono i dati della colchicina ma lo stesso vale per la doxrubicina una fotocopia vedete nel BAC3 quindi è molto specifica per l'HSBP8 e qualche altro genere correlato all'autofagia se usiamo il composto se testiamo il composto per verificare se è in grado di mantenersi solubile per eliminare la forma mutante qui vedete abbiamo dei grafici che illustrano il test vedete entrambi i composti possono potenziare la clearance di queste proteine nelle cellule e se utilizziamo questi composti e allo stesso tempo silenziamo l'HSBP8 vediamo ancora un effetto quindi vuol dire che questo non è solo l'unico mediatore diciamo di questo effetto che devono esservi altri fattori coinvolti tra cui l'HSBP8 spero di esservi mantenuto nel tempo sicuramente ha parlato molto velocemente e gli interpreti si scusano per non essere riusciti a mantenere il ritmo semplicemente comunque qui abbiamo le conclusioni le aggregazioni proteiche dipendono da una clearance proteasomica insufficiente da un blocco del flusso autofagico se c'è un overexpression di questa piccola proteina HSBP8 che interagisce in questo enorme complesso possiamo avere una clearance di tutto il pool proteico dalle cellule e se blocchiamo il trasporto di questo complesso attraverso l'MTOK o meglio verso l'MTOK c'è un ritorno verso il proteasoma e questo è molto interessante bloccando il trasporto non fa vedere l'aggregazione la proteina viene espulsa dal proteasoma vuol dire che la proteina rimane solubile almeno o almeno nella sua forma di monomero perché se comincia a formare degli oligomeri delle interazioni poi non può essere più elaborata dal proteasoma quindi deve restare solubile in questo senso questo ci dà delle informazioni del meccanismo che controlla il pathway questi due pathway è molto importante anche il livello relativo di BAC3 e BAC1 nelle cellule quindi nello scegliere il pathway per eliminare le proteine dalla cellula e se potenziamo l'attività dei sistemi PQC possiamo o meglio attraverso un'induzione farmacologica dicevo possiamo eliminare questa effrazione proteica voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo lavoro in particolare Cristofani Cicardi che ha fatto molto lavoro sui frammenti proteici e Valeria Crippa che è stata una protagonista di questo lavoro nel mio laboratorio quando era da noi ora è a Pavia con Cristina Cereda e ringrazio Serena Carra per il supporto questo lavoro non sarebbe stato possibile senza la sua collaborazione Provenzani D'Agostino Bendotti Taylor e Pandey per i modelli animali ho finito apriamo la discussione come proseguirete nei modelli murini avete in mente già il lavoro nel prosiego prossimamente vorremmo dimostrare che questi composti aumentano l'espressione dei neuroni motori e vorremmo produrre modelli murini che hanno un over expression di HSBP8 li incroceremo con i nostri topolini c'è una pubblicazione ho saltato la diapositiva perché non pensavo di avere tempo ma comunque c'è un omologo dell'HSBP8 nel virus di tipo 2 dell'herpes simplex ed è stato dimostrato che l'infezione con questo virus a livello muscolare porta un ritardo dell'intorgenza o un arrentamento della progressione della malattia nei topolini quindi non è ancora un esperimento molto chiaro in mente però c'è una sorta di over induction degli omologhi è stato dimostrato che funziona nei topi vedremo se può essere interessante più avanti Caterina c'è un microfono perché c'è una domanda di Caterina no non basta parlare senza microfono un bel lavoro Angelo l'HSBP8 è sensibile all'arimocromo o è indotta dall'arimocromo è uno dei farmaci che inducono gli chaperoni e è stato dimostrato che migliora la sopravvivenza nei topi per quello che ne so io no è stato testato tra i 3000 sì è stato testato io ho selezionato solo i 20 composti che risultavano più attivi quindi magari può anche indurre l'espressione ma con un'efficacia inferiore l'arimocromo induce l'HSF1 non la B8 non è controllata nell'interesse del programma dovremo continuare ok